Nella storia degli esseri umani non sempre l'incontro con l'animale si traduce in coccole e carezze. La pet therapy sarà pure una bella invenzione, ma non addestriamo piragna e coccodrilli per alleviare le nostre sofferenze. Stanno dove devono stare e lì le lasciamo, come i ragni e i serpenti velenosi e anche le api, perché loro non lo sanno che se sei allergico la puntura può mandarti all'altro mondo. Dai pesci, dagli insetti, dai mammiferi, dai rettili e dagli animali in genere non ci aspettiamo sempre amicizia e spupazzamento, ma non per questo li uccidiamo, a meno che... A meno che non si tratti di un orso trentino, come KJ1, passata a miglior vita perché ritenuta aggressiva e pericolosa. Ma va? Dice, da noi gli orsi sono più buoni, forse, ma la teoria non è universalmente riconosciuta. Rispetto all'orso bruno sloveno, che popola il Trentino Alto Adige, il nostro marsicano sarebbe più mansueto, questioni genetiche o anche ambientali, perché è cresciuto in un altro contesto. Una diversità c'è e sta nella morfologia del cranio, quella è sicura, ma a fare la differenza potrebbe essere anche la socializzazione. Secondo alcuni studiosi, gli orsi presenti in Trentino provengono da territori poco antropizzati, l'essere umano lo incontrano di rado e, se accade, manifestano un comportamento ostile e aggressivo. I nostri orsi marsicani, invece, abitano zone molto antropizzate e quindi sono più confidenti. Certo, pericoli, lo sappiamo bene, li corrono anche loro, basti pensare alla fine che hanno fatto Amarena e Juan Carrito. Eccezioni umane a parte, alcune si chiamano anche bracconieri, pare che chi vive nel centro Italia manifesti maggiore accettazione e tolleranza nei confronti dell'orso. Ed è diversa anche la sua gestione. In Abruzzo se ne occupa il Parco Nazionale, mentre in Trentino è affidata alla provincia, come ben sa il suo presidente Maurizio Fugatti, che per la decisione di abbattere l'orsa dovrà vedersela con la pioggia di denunce, come quella già depositata dall'Ente Nazionale Protezione Animali alla Procura della Repubblica di Trento per presunta violazione dell'articolo 544 bis del Codice Penale, ovvero uccisione di animale con crudeltà o senza necessità. Che non fosse necessario uccidere KJ1 lo pensano anche gli animalisti italiani, il WWF e altre associazioni ambientaliste, anche in Abruzzo. Alternative meno violente ci sarebbero, dagli spray anti-orso ai campanelli, passando per una maggiore informazione sui pericoli. Chissà cosa ne pensano in Trentino.